io rido 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 sinceramente per non piangere rido per non piangere ufficiale 15 punti di penalizzazione alla juventus per il discorso leader non sto neanche qua adesso siamo dodicesimi in classifica allegri come farai adesso acciughina latrina come farai adesso che avevi fatto nove vittorie consecutive ed era arrivato lì terzo secondo terzo e adesso t'hanno rispedito giù al dodicesimo posto minchia che ammazzata ragazzi porca io ci rido ci scarto sopra ma questa è una ammazzata è di livelli epici colossali 15 punti di penalizzazione per la stagione in corsa secondo me neanche non è finita qua guardate cosa vi dico comunque ufficiale adesso notizia è fresca stanno riportando un po tutti c'è un po di subbuglio c'è chi dice 9 c'è chi dice 15 bah non lo so ragazzi fatto sta che qua sky ha riportato ufficialmente la juventus 15 punti di penalizzazione dodicesime classifica con l'empoli quindi ecco io dico solamente una cosa vergogna vergogna perché la juventus ovviamente non sto dire qua adesso non è questo luogo neanche la sede per per dire se ha sbagliato o no qualcosa avrà fatto ma di sicuro non solo la juve questo su questo è certo e juventus è facile colpirla perché quella che fa più risonanza e quella che ha un eco maggiore questa è una bastonata ragazzi dopo il 2006 che la fu proprio qua elcan ti sei proprio superato secondo me hai fatto i conti proprio della serva quelli perfetti precisi cioè tu hai fatto in modo che la juve non vada in champions quest'anno così scatta la clausola di quel sul contratto per esonerare pure la latrina hai capito visto che è un uomo di tuo cugino e devi far fuori uno alla volta non sapevi come far fuori la latrina visto che c'è un contratto pingue e secondo me sono tutte supposizioni ragazzi quindi sto andando a ipotesi adesso a caldo così mi sta venendo in mente un po di bagianate ecco tra virgolette mettiamolo così però 15 punti è una ammazzata ragazzi 15 punti è una vera ammazzata e niente ora aspettiamo sviluppi vediamo se ci saranno altre altre notizie ragazzi vi terrò aggiornati però però ragazzi il calcio veramente è arrivato a dei livelli proprio imbarazzanti colpire la juventus adesso sto leggendo in diretta ragazzi stanno confermando tutti è confermato sky conferma 15 punti di penalizzazione alla juventus io sinceramente guardate stupito no deluso no ma trai un cazzo tanto voglio dire anche se andavamo in champions tre partite facevi poi tornavi a casa amareggiato sì amareggiato per come il calcio italiano si sta riducendo e per come per come sta andando proprio di male in peggio la mia amata juventus perché a me dei punti le penalizzazioni le plus valenze non me ne prego un cazzo è che poi alla fine vanno a toccare sempre quelle che io amo di più della mia vita e che è la squadra che è la juventus e là mi girano i coglioni perché alla fine rimetterci sono sempre i giocatori che non c'entrano un cazzo su sta roba qua secondo me però vabbè vedremo ragazzi restate aggiornati perché questo è solo l'inizio secondo me 15 punti ufficiale 15 punti di penalizzazione tolti alla juventus siamo dodicesimi con l'empoli ragazzi fino alla fine forza juve ciao ciao